Buonasera Rosa? No, che io? No? Allora, che abbiamo qui? Diamo il tuo nome qua, velatrice, da dove vieni? Da Parma. Ah, sei qui attaccata? No, no, sei attaccata qua per dire c'è gente che si fa 200 chilometri per venire a fare volante. Sì, e quindi sei venuta oggi al campo volo per fare il tuo secondo lancio, uno in francia e uno te lo fai qui con noi. Perfetto, allora. Perché ho tenuto gli occhi chiusi tutto il tempo? No, occhi aperti. Hai fatto l'un plan. Ok, allora, come l'altra volta, 200 chilometri orari, 60 secondi di caduta libera. Andiamo a divertirci. Va bene. Si vola. Ordau keep laughing. Ok, ok. Questo è un po' è così. E' un po' di guai che si spiega in qua. E' un po' di guai. Ricollate. Qui qui qui, guarda di qua. E' un po' di qua. E' un po' di qua. Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Grazie a tutti.